un saluto da pep2377 e da mitzerotto eccoci qua ragazzi con l'album euro 2008 completo con le sue 535 figurine dove noi abbiamo raccolto per voi e andremo ad attaccare l'europeo del 2008 come ricordiamo tutti è stato vinto dalla spagna per 1 a 0 contro la nazionale germania gol di fernando torres questo è il nostro album ragazzi ora andremo ad attaccarlo e poi ve lo porteremo tutto completo da visionare andiamo ragazzi prima di sfogliare il nostro album completo vi ricordo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per essere aggiornati sempre a tutti i nostri video e lasciate un pollicione in su se il video vi piacerà partiamo ecco qua euro 2008 come abbiamo detto precedentemente le figurine tutte attaccate come promesso andiamo a sfogliare insieme abbiamo qua la coppa vedete abbiamo tutti i vari i vari stadi gli stadi eccoli quali foto di tutti gli stadi vienna salisburgo insomma tutti gli stadi dove sono state disputate le partite di questi europei 2008 basilea zurigo ecco qua abbiamo la svizzera tutta completa le quattro figurine che completano la squadra le figurine singole di ogni giocatore la repubblica cieca ecco mi soffermo su questa figurina vedete il bordo purtroppo per mantenere la figurina compatta nel senso allineata sono state stampate non benissimo e quindi la figurina non è allineata bene all'altra sopra vedrete anche nelle prossime figurine che purtroppo la panini con le stampe non ci siamo proprio abbiamo letto la repubblica cieca eccola qua tutta completa il portogallo di cristiano ronaldo che troviamo qua la turchia una vecchia conoscenza del calcio italiano a canso coro giocato nell'inter l'austria vedete qua come attaccata purtroppo è stato un po le hanno fatte male ragazzi sono state fatte male queste figurine soprattutto questa idea delle quattro figurine perché la squadra unica se non vengono stampate allineate giuste purtroppo si vede il dislivello e non è non va ad agganciare bene la foto della figurina per il resto è un ottimo album l'ho trovato bellissimo qua abbiamo la croazia rakitic un po di volti conosciuti lario simic è passato dall'inter al milan modric qualche estate fa si era parlato di un arrivo a milano prima sponda inter poi sponda milan ma è rimasto a real madrid la germania vedete come dicevo prima abbiamo la germania miroslav closey mario gomez podovski passato anche lui nell'inter grandissimi giocatori mi soffermo vedete bene guardate vi faccio un primo piano vedete purtroppo guardate per mantenerla allineata resta questo spazio peccato abbiamo detto la polonia l'olanda qui c'erano avete snyder clarense edel robin con i capelli ragazzi vedete coi capelli robin van der sarah era la juventus van persi steckenenburg che ha giocato da roma untela passato il milan passato in italia anche lui ecco qua la nostra nazionale italiana ragazzi andiamo a sfogliare i giocatori che c'erano buffon cannavaro panucci materazzi barzagli grosso oddo zambrotta ambrosini gattuso per rotta de rossi senza barba guardatelo andrea pirlo anche lui sbarbato camoranesi quagliarella anche lui sbarbato luca toni di natale del piero ea quinta e marco amelia la romania adriam mutu e ricordate passate in italia anche lui alla juve me lo ricordi forse anche la fiorentina se non sbaglio però non voglio non mi ricordo se forse sia anche la fiorentina aveva nazionale francese eccola qua la nazionale francese parecchi campioni in quest'annata c'era turama abidale evra viera maluda ribe ri e forse di tutti questi gli unici due ancora in attività saranno ribe ri e benzema perché per il resto penso che vediamo un po forse nasri non so dove che gioca evra turam ora c'è il figlio che gioca attaccante ecco qua la grecia abbiamo una grecia completo album tutto completo ragazzi a figurine attaccate al millimetro la svezia vedete un giovanissimo zlatan ibraimovic la spagna vincitrice questa è la nazionale vincitrice di questo europeo casilla spujol ibanez marchiano mamma mia che squadra ragazzi sergio ramos alonso fabrika xavi pepe reina vedete eccolo qua l'autore del gol dell'uno zero della finale contro la germania fernando torres abbiamo la russia anch'essa completa come vedete non ci sono grossi giocatori che hanno che sono passati in grandi squadre vediamo ecco questo qua questa cosa qua è piaciuta molto le figurine rappresentative dei singoli giocatori suddivise per portieri come vedete difensori molto bello qua abbiamo un po di centrocampisti scampisti siedorf sierra e poi abbiamo anche gli attaccanti dove hanno inserito anche luca toni della nostra nazionale andare a pirlo ecco qua c'è un po di albo dove spiega un po tutte le vittorie delle varie nazionali negli anni precedenti 1960 la russia 64 la spagna 68 la nostra italia poi abbiamo il 72 la germania il 76 vedete mamma mia il 76 che l'ha vinta penso sia la cecoslovacchia che è cecoslovacchia mi sembra nell 80 nell 80 abbiamo la germania nel 84 abbiamo la francia nel 98 abbiamo l'olanda nel 92 abbiamo la danimarca nel 96 abbiamo ancora la germania nel 2000 abbiamo la francia nel 2004 abbiamo la grecia questo nel 2008 che sarà la spagna bene ragazzi questo era il nostro album completo al 100 per cento come sempre vi ricordo di nuovo iscrivetevi al canale attivate sempre la campanellina per essere aggiornati a tutti i nostri video che usciranno nel futuro e ci vediamo col prossimo libro col prossimo album ragazzi da pep 23 77 ciao ragazzi